Misericordia, sicur Patre, misericordia, sicur Patre, misericordia, sicur Patre. La nostra salvezza. Misericordia è la parola che rivela il mistero della Santissima Trinità. Misericordia è l'atto ultimo e supremo con il quale Dio ci viene incontro. Prega per noi. Pregate per noi. Prega per rendere grazie al Signore. E' questa la porta del Signore. Per essa entriamo per ottenere misericordia e perdono. Grazie. Dio Onnipotente, origine e fonte della vita, benedici quest'acqua e fa che noi, i tuoi fedeli, aspersi da questa fonte di purificazione, otteniamo il perdono dei nostri peccati, la difesa dalle incidie del male e il dono della tua protezione. Nella tua misericordia donaci, oh Signore, una sorgente di acqua viva che zampilli per la vita eterna, perché liberi da ogni pericolo possiamo venire a te con cuore puro. Per Cristo nostro Signore. Amén. 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 Grazie a tutti.